buongiorno amici da North Caravan rieccoci con la nostra rubrica camper espresso oggi qua per presentarvi questo che è un magnifico semi integrale si tratta del Vennsberg cara compa 640 mag edition pepper su mercanica mercedes benz come potete vedere infatti qua abbiamo un motore mercedes benz da 150 cavalli con cambio automatico che è un motore sicuramente molto interessante ma interessante anche la dotazione da cui è composto questo mezzo infatti edition pepper un'edizione speciale che vi consente di avere un mezzo con tantissimi accessori già installati come ad esempio tendalino retrocamera finestre size porta porta premium e tantissimi altri accessori che andremo a vedere all'interno del mezzo partiamo qui dalla cabina come potete vedere cabina da mercedes sprinter con autorad e pioneer ok multimediale con retrocamera già annessa abbiamo il nostro cambio automatico ok accessione con pulsante start e stop oscuranti bisettati già di serie cerchi in lega tra l'altro e sopra abbiamo anche un obbio panoramico posto sopra la nostra cabina ed eccoci all'interno come potete vedere di net integrata con la cabina abbiamo due posti omologati nella parte posteriore per un totale di quattro posti omologati sul mezzo abbiamo il tavolo con prolunga girevole equa lato invece abbiamo la cucina con tre fuochi con accensione tramite pezzo elettrico lavello la nostra centralina truma inet x master ok che ci consente di gestire tutte le utenze energetiche e anche il riscalamento tramite questo pannello di controllo abbiamo quasi sopra invece il comodissimo letto basculante è un letto basculante che vi consente di far dormire altre due persone all'interno del mezzo come potete vedere veramente facile da realizzare un comodissimo matrimoniale ed eccoci in bagno come potete vedere doccia e bagno completamente separati con lavello che si può spostare a destra a sinistra a seconda dell'utilizzo che ne fate ed eccoci nella parte posteriore come possiamo vedere disponiamo di due letti gemelli molto comodi che possono essere unificati per poter creare un terzo posto letto creando un maxi letto matrimoniale molto confortevole ed eccoci qua nel gavone gavone accessibile da ambo le parti infatti abbiamo una comoda porta di apertura sia a destra che a sinistra gavone che ha una portata di 150 kg con due barre multiuso abbiamo a destra invece la presa 220 bocchetta del riscalamento e tanti sti pareti che ci permettono di ottimizzare lo spazio di carico ed eccoci amici miei è stato un piacere per me mostrarvi questo questo mezzo questo nuovo mezzo che ha una meccanica veramente spettacolare mezzo adatto per chi cerca un veicolo ad altre prestazioni noi al momento non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video